In questa casa non c'è niente da fare perché non c'è qualcosa con cui posso divertirmi Sì, non ce l'ho nemmeno Giardino Ma forse la piscina ce la posso avere perché forse in questa casa c'è qualcosa di tecnologico in cui mi permette di avere la piscina Proviamo Ciao a tutti piccoli croetti e bentornati in questa nuova avventura su Roblox Brookhaven perché c'è un nuovo segreto che ho scoperto grazie a TikTok ovviamente perché visto che voi avete visto già dalla intro prima non ho un giardino e vedete ho solo un piccolo garage senza niente però possiamo avere la nostra bellissima piscina e sapete come? Se vedete sotto alla statua c'è qualcosa di azzurro vedete nei piedi? Ma prima di vedere questo grande segreto ricominciamo tutto da capo perché in questa casa per questo grande segreto avete proprio bisogno del premium infatti poi per la casa avete bisogno questa casa qui vedete? Questa casa qui che è bellissima poi guardate da fuori quanto è bella guardate da fuori quanto è bella vi piace ma adesso passiamo al segreto perché sapete che qua credete che qua non ci può mettere la piscina ma invece si può e come guardate house pool la piscina della casa cosa è successo? cosa succede? vedete la statua no? sotto abbiamo già visto che c'è un po' di azzurro sotto e ma vedete che c'è la piscina? c'è la bella piscina eh ma guardate che bella piscina che è quanto è grande madonna non ci sta nemmeno per farvela vedere così ci sta benissimo eh così ci sta benissimo ma voi vi chiedete dove è finita la statua? questo me lo chiedo anch'io perché sotto alla piscina non c'è però forse col nostro metodo del sacco a pelo possiamo cercare di metterla qua al muro no? ho preso da qualche altra parte perché sennò e allora è quasi impossibile perché siamo sotto in piscina e stiamo anche nuotando nel frattempo ma è difficilissimo infatti eh no raga è difficilissimo io non ci riesco aspettate un attimo eh no non ci riesco no è è difficile però possiamo provare anche in un altro modo possiamo andare a prendere l'elicottero o addirittura questo avete bisogno del premium per vedere questo segreto potete farvi aiutare da un amico o un'amica che ha il premium ovviamente sta addirittura piovendo perché vabbè prendiamo una bella macchina e andiamo a prendere questo elicottero perché è la macchina della polizia non voglio la macchina ok prendiamo la macchina rossa ecco ok macchina rossa macchina rossa io voglio così però cambiamo anche il colore perché non mi piace lo voglio aspettate fucsia guardate la macchina di Barbie ragazzi però dovete ricordarvi dove avete messo la casa perché se non ve la ricordate poi è un problema cercarla ok però io ho già memorizzato dov'è posso andare da quella parte e poi vedrete e innanzitutto andiamo prima a prendere questo elicottero perché ci serve è rosso ma io passo lo stesso tanto pagherò la multa che mi aspetta poi andiamo a parcheggiare andiamo a parcheggiare perfetto abbiamo parcheggiato benissimo e ma guardate che perfezione che ho parcheggiato bene e poi andiamo sopra le scale e qui c'è l'elicottero qui dobbiamo mettere l'elicottero dei ricchi perché non possiamo avere quella della polizia mi dispiace bene andiamo così e andiamo avanti perché vado da questa parte perché di là c'è casa mia così posso ricordarvi alla perfezione dove l'ho messa perché così è un po' più facile no? però dobbiamo stare attenti di non essere alti come quella roba gigante vedete? quella è casa mia che bella che è sta addirittura piovendo perché sta piovendo? è un giorno triste vabbè vabbè anche oggi da me ha piovuto comunque è ritornato al sole è ritornato al sole perfetto perfetto è ritornato al sole finalmente ho un giorno felice no? giorno felice giorno triste quel che l'è bene andiamo giù e poi così veloce 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 no 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 eh sì sapete che non ho non ho proprio capacità di guidare da guidare ovviamente perché non sono bravissima però ci siamo allora da questa parte dovrebbe esserci casa mia ecco di là la statua vedete che è là sotto è un po' di sarà un po' difficile andare di là sarà un po' difficile comunque però ce la faremo perché siamo una squadra gigante no eh no 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 gi 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 allora eh è un problema questo perché perché è in mezzo alle rocce se io tocco ste rocce rischio di 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 cadere no però guardate la statua la che è tutta la ferma da sola poverina che è e infatti noi li stiamo andando a fare compagnia vero eh ok saltiamo eh addio eh elicottero e vabbè eh l'elicottero è andato però almeno abbiamo la nostra bella statua guardate che bella ha un po' buietto qua sotto però e là sopra c'è casa mia vedete la piscina però facciamo un po' più di luce a sta statua che ola finalmente si vede meglio cioè ma ragazzi veramente sta questo segreto è una pazzia altro che follia poi si è tolto anche tutto il pavimento di tutta la dimensione della piscina poi guardate anche da dietro però sotto non c'è più anche la più la luce blu guardate ma questa è pazzia c'è se il mondo è veramente così sarebbe stato incredibile wow ma cosa succede se io tolgo la piscina no 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 io pensavo che ritornavo su insieme alla statua ma sono caduta e adesso mi ritrovo di nuovo qua e ritorniamo a casa mia perfetto cioè ma io pensavo di tornare su con la statua invece no eccomi qua comunque adesso andiamo a vedere se la statua è tornata dentro casa eh ah e si per fortuna è tornata perché se non c'era era un guaio pazzesco però comunque sotto era molto bella anche se avevamo usato la torcia comunque ragazzi è una cosa incredibile questo segreto cioè veramente poi c'è poi possiamo anche vederla da qui già veramente poi si può sempre rimettere la piscina e sempre sotto c'è la statua bene abbiamo rimesso la piscina e poi sotto c'è di nuovo la statua andiamo di sopra per vedere tutta la piscina perché voi immaginate che poi non si vedrà però invece si vedrà benissimo vedete eh c'è il vetro qui quindi possiamo vedere benissimo la piscina perché è grandissima soprattutto guardate oh mio dio e poi di là si vede anche il tavolo quindi ragazzi questo nuovo segreto che abbiamo scoperto è magnifico e vi lascio la parola a mollite Chloe 07 ciao quindi ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale di io sono Chloe e iscrivetevi al canale così la nostra famiglia diventerà anche più grande quindi noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura qui su Roblox Blue Kevin ciao ciao muah ciao